Un minimo si trova posizionato sul Mar Ligure con relativo transito di un fronte freddo, flusso di scirocco in rotazione a Libeccio dalle prossime ore, in seguito rimonta del campo di alta pressione. In Toscana, venerdì 28 aprile, nuvolosità irregolare con residui rovesci sparsi più probabili sulle zone di nord-ovest, tendenza a generare miglioramento dal pomeriggio, venti moderati o forti da ovest a sud-ovest, in attenuazione dal pomeriggio sera, mari mossi o molto mosso in particolare a nord dell'isola d'Elba, con tendenza ad attenuazione dalla sera, temperature in calo. Sul territorio provinciale molto nuvoloso, con pioggia alternate a schiarite, migliora in serata, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 9, massima 15 gradi, a Castelnuovo-Varfagnane, zone montane, minima 7, massima 12, a Viareggio sul litorale, minima 11, massima 13 gradi, sabato sereno o poco nuvoloso, temperature minime in calo, massime in aumento.